Dopo la brillante affermazione sul campo della capolista Prato, la menoscuola basket Arezzo torna al Palace Portestra affrontando per la dodicesima giornata di ritorno il basket Val di Sieve. Una sfida molto delicata contro un avversario storicamente molto ostico da superare, nonostante il livario in classifica possa far pensare per un pronostico chiuso. In realtà Val di Sieve guidata in panchina da coach Pescioli può ambire ancora ad un posto nei play-off con in campo l'eterno Chini terzo nella classifica, marcatori del girone con 19 punti realizzati a partita, tutto può ancora accadere. Per questo l'Amen non dovrà rifiatare ma mantenere la determinazione delle ultime uscite per cercare di migliorare ulteriormente la classifica in vista dei play-off. L'appuntamento per tutti gli sportivi è fissato per sabato 1 aprile alle 19 al Palace Portestra, nel weekend infine in campo anche tante giovanili.